Sì, io non credo che... ci sto meditando molto su questa cosa, sono molto arrabbiata con il mio partito perché io contavo davvero su una mediazione e contavo sul fatto che la voglia di cambiamento che la città sta esprimendo, e lo vedete questa sera con le città e le persone che sono presenti, credo che sia viva nella città. Io speravo che il PD sapesse cogliere questa cosa, questa veramente idea di cambiare, non solo sui contenuti e quindi il programma, ma anche sulle modalità. Io non sono uscita dal PD né dal gruppo perché ritengo che sia corretto far sentire la propria voce all'interno del gruppo di appartenenza, perché io mi riconosco in molti dei valori del PD che a quanto pare il PD stesso spesso non riconosce, infatti ho sempre fatto parte delle minoranze, ero con Marino, adesso sono con Civati, eccetera. Padova 2020 non è un partito e quindi io in questo momento non ritengo di voler uscire dal PD, ma di far sentire la mia voce all'interno del PD, perché continuerò a chiedere rinnovamento finché il PD comincerà a capire che la gente lo vuole veramente, anche dall'interno. Però c'è la possibilità che alle elezioni corra Padova 2020 con una civica, a Ivorossi con il PD, in quel caso lei dovrà prendere una posizione? In quel caso dovrò prendere una posizione, credo che mi consulterò però con i dirigenti del PD, perché questo sarebbe corretto. Stasera sarà rilegittimato Francesco Fiore? Io credo che dopo la fatica che abbiamo fatto tutti nel sostenerlo anche un po' alle spalle rispetto a questa trattativa e anche se molti dell'Assemblea sono molto felici di questa rottura, io credo che però altrettanti siano molto delusi del fatto che non si sia riusciti, ma delusi perché secondo me la slealtà che loro ci attribuiscono è una slealtà che ha avuto il PD.